Ci troviamo qua a della Vittoria di Via Nazionale, oggi c'è l'allenamento per i ragazzi del settore giovanile e scuola calcio. Ci saranno i giovanissimi di mister Giovanni e gli allievi di mister Gabriele. Il terreno di gioco è pesante. Oggi dalle tre e mezza alle tre e un quarto cominceranno gli allenamenti. I ragazzi dei giovanissimi si stanno preparando per la trasferta di sabato pomeriggio alle ore 18 sul campo comunale di Miglianico contro la locale squadra di calcio. Mentre domenica mattina i nostri allievi di mister Gabriele andranno in trasferta a Chieti, precisamente al campo celtico di Chietiscalo contro il Chieti. Due trasferte per le nostre due compagini giovanissimi e allievi. Buongiorno e ci risentiamo ai prossimi video.